Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo su Escape Plan dopo un secolo e se vi chiedevate come mai questa lunga assenza sappiate è che perché noi, io e Airbrush che oggi è qui in compagnia Bella, abbiamo registrato due ore però poi vi hanno scoperto che non si sentiva niente per cui abbiamo dovuto cancellare tutto e ero un po' depresso dopo questo però oggi siamo tornati più forti di prima per fare, per registrare Ma aspetta, prima che parti non è che dovremmo abbassare il volume della tv? No, te lo volevo dire No, ma sai cosa, la stessa camera è intelligente per cui non si dovrebbe ripulire il suono però noi abbassiamo lo stesso No, tanto per evitare sai che ci piacerebbe gli inconvenienti No, ho visto l'altra volta Oh, c'è il fondo mi sembra No, però io non ho niente Io mi ricordavo che faccia qualcosa No, vu Ma dove vai? Che ti ho detto fino da lì? Ma cosa vuoi? Mi hanno dato ubriati Sì, ma... allora E tutto ciò cosa dovrebbe fare? Vai, passa Ok Io passerei col gigantone Io passo col gigantone intanto Vai ce la fa, ce la fa Non ce la fa, non ce la fa Ma per me devi andare a portare da sopra Non ce la fa Non ce la fa Non ce la fa Ah, ah non può si fa la seduzione Allora, ti ricomincio da capo Anche perchè questa parola non si muove più Non ce la fa Vabbè, ricominciamo che non si capisce niente qua No? Sì Calma diciamo il livello Ma io, calma Scusate, mi ricordo Cioè, questo lo dovevamo per forza aver già fatto Sì Allora, tu vai lì con lì Ah Ah, in modalità scoreggione Attenzione Sembra di Bushmacher che guida Di un'auto di formola Oh Mettiamoci in modalità scoreggia No, io devo... no No, no Che ha? Devo scoreggiare di là Ma non mi si gira Poi, voglio un like per il costume Guardate in questi costume No, 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 no Gira, gira Guarda, ma non si gira Ok, finalmente È in posizione Bushmacher Correggiamo Scoreggiato Oh Vai E adesso? E adesso? E adesso? E adesso? E adesso? E adesso questo non si deve muovere Mi sbagliavo Fermo Uuuuuh E' la sette? Più o meno Ci abbiamo messo un minuto e quaranta tre Beh dai, poco 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 Sì sì Ma che cosa? Se è andato così Adesso devi far cadere le pecore Se adesso devo far cadere le pecore Queste pecore Io odio le pecore Perché poi non si sa come si... Vedi? Io non capisco come si fanno more Adesso devi farle andare nelle granette Devo farle andare lì che così cadono giù Se lui mi butti giù non mi faccio niente Cioè questo dovrebbe essere il piano Perfetto Questa cosa serve? Niente perché... Serve per l'altro Forse magari adesso siamo di nuovo qui Tre stelle ragazzi Cioè lo stile Lo stile Di questo abito poi Dai oh Dai mi sembra facile Allora Ah no qua c'è un cattivo Sì qua c'è un cattivo Qua c'è un cattivo È un merdone Me lo ricordo questo Dobbiamo darvi un nome a questo merdone Come lo chiamiamo? Puffo nero Puffo nero Tipo... Puffetto 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 Chiamiamolo Chiamiamolo Gollum Gollum Va bene Gollum Ci sta Gollum Va bene Gollum Aderenza esagerata Aderenza esagerata Aderenza esagerata Ho un nome anche per la pecora E che cazzo Poi devo farlo prima Cioè dopo Cioè prima 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 del dopo Cioè prima del dopo Oh guardate la Cioè guardate veramente la Precisione Chirurgiche Già E sottolineo chirurgica Chirurgiche Perché quando parlo la playstation capisci playstation Ah internet I comandi vocali Ecco Sono i Gollum Ci sono i Gollum Un esercito di Gollum Sono anche dei bravi balleni Ma cos'è? Cosa sta facendo? No questa cosa è Quet'altro davvero Vedi e poi io Chiuse più lenti Se lo faceva vedere mia sorella Non dorme la notte Il meglio questo è quello che faccio io Quando sento queste canzoni Se non sono in casa Mi metto a fare No Ma io che ha finito la metà Che lo so Spera il shop Però sì Probabilmente mi ha finito la notte Ok Allora Questo si Ma con chi? Ma con chi? Ma con chi è da figo Io l'ho Cioè secondo me è da con chi è E' stato una carità solenne 17 secondi signori E' il livello più corto che abbia mai fatto per io Pallone con più piatto Questo invece Si prospetta A livello a quanto complesso Ah ho capito già tutto? E non mi piace Dai oh Girati già No dall'altra parte Non lo ricordo questo Porto No mi ricordo Guarda vedi Grazie Cioè signori La precisione Guarda ma qui c'è come di rose Il passero Il passero Cioè non ci credo Sono Cioè non me ne sono neanche accorto Ho finito il livello Che scoppio Che scoppio Scoppio Signori Vedi Vedi Signori Per capodanno Noi portiamo il livello che scoppio Che è già passato capodanno Eh purtroppo Però è vero che Oh Oh signori Ci dispiace che lo speciale di Natale sia uscito Non dopo Natale Ma che io sono Un handicappatore Cioè guardate come schiva i colpi No ti prego Non ti vedo Non m'ho visto Ma è handicappato No no E' vero che Cioè io non lo so Cioè sono Gesù Come che ho fatto a non morire? Eh Ok adesso facciamo ammazzarci con questo Perché non va? Ok Ma questo era difficile mi ricordo Si mi ricordo Si mi ricordo Non era facile ma No mi è stato tipo Eh è facile Quelli non si muovono No no si non si muovono Però possiamo fare Però li dobbiamo muovere noi Cioè guarda Adesso facciamo così Vai No quelli li vanno a tempo Si questi vanno a tempo Vai sto io Allora ciao Ok bravo Bene 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 Al primo Al primo Abbiamo già fatto tutti questo È la settantaduesima volta che muoio con Lille Lille è un bel nome Pizzicoletto Pizzicoletto Cos'è un pizzicoletto? Come un pizzicoletto Ah ma questo lo dove eravamo prima con il tizio Con l'altro ciccione Eh No no ti ho l'ampetato giù Che devo fare? Eh Tu devo andare Deve andare giù Perché? Perché? Ma no Deve andare su Ma no Ok Lei no Che ha paura di scoreggiarli E andare a sbattere con altre cose Ok Di sicuro vado a sbattere con la sfiga che ho Ma no Sei fatta? No No Ma porco Perché è scoreggiato? Che doveva essere Stava dalla porta Ma non ci andava Per cui Guarda Scorreggio 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 Ebbe finito Vabbè Dai facciamo l'ultimo 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 però eh Stavolta l'ultimo Anterrato su di Stavolta l'ultimo Che schifo Ok Devi riprendere Ok No si provano Io ho una promessa strategia Vedi? Vedi? Che la mia strategia funziona? Ehi Ok Allora questo episodio finisce qui No No Dai 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 Va bene Va bene dai Tanto ci metterà 10 secondi Ero iovino Allora Già So come fare Uccidere questo qua L'avevo detto E' a tempo? Ok Ah si Ah capito Questo è possibile Iniziale Ti ricordo È piaciere? Questo è impossibile Questo è impossibile Mi ricordo No 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 Allora va bene ora questo qui e la peccola qui, no, peccola, no, peccola, giù, vai dai ce l'abbiamo fatto, oh fine fine, va bene, questo è l'ultimo, tratto l'ultimo per cui l'episodio di oggi finisce qui, il grande ritorno su skip plan, vogliamo 100.000 like solo per questo episodio, sarebbe bello, io vi prego di mettere un mi piace, come sempre, di commentare e di iscrivervi al canale, al canale, al canale, al canale, al canale.